Ieri sera, poco dopo le 22, due squadre operative del comando dei vigili del fuoco di Ragusa hanno ricevuto una segnalazione di incendio in un palazzo ragusano. Immediato l'intervento nel condominio Belvedere Grattacielo, dove si stava sviluppando un incendio in un appartamento della sede del Lance. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ragusani, le fiamme avevano già avvolto e parzialmente distrutto l'immobile. L'incendio ha gravemente danneggiato l'appartamento. Il personale vigile del fuoco è stato impegnato con 10 unità con due automezzi che hanno lavorato non poco, dovendo peraltro realizzare una condotta che dal piano stradale arrivasse fino all'ottavo piano. I fumi prodotti dall'incendio si sono rapidamente dissolti e dalle aperture di aereazione delle scale. Non è stato quindi necessario evacuare i residenti dello stabile, comunque molto spaventati e preoccupati dalle fiamme alte e dal fumo avvolgente, che rendeva l'aria rarefatta irrespirabile. Le squadre dei vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede quasi a luna. Alle 4 e mezza la squadra operativa è nuovamente intervenuta in via Toscana per un incendio divampato in una civile abitazione, originatosi da un materasso. Vigili del fuoco in azione anche a Modica, dove la squadra operativa locale è dovuta intervenire nella sarda serata nel quartiere Sorda, nella zona dell'ospedale per l'incendio di alcuni cassonetti. Grazie! Grazie!